Lo spirito della trasmissione della rubrica Lo sportello del cittadino è quello di far emergere le criticità relative soprattutto alla vivibilità urbana. Si cerca di dare risposte al cittadino e di metterlo in contatto con gli enti preposti per far sì che i diritti del cittadino siano rispettati. Il cittadino non è buono solo per pagare le tasse e per essere chiamato al voto. Sono in compagnia di Irene Lamanna, la dottoressa Irene Lamanna, presidente dell'associazione Taranto Turismo. Con lei in tante occasioni abbiamo cercato di stimolare l'attenzione dell'amministrazione comunale di Taranto. Diciamo che quando pungoli, pungoli e pungoli qualcosa si muove. Allora, Irene Lamanna, facciamo un po' il punto perché ho visto la presenza di Irene Lamanna molto attiva sui social con riferimento soprattutto alle problematiche del territorio. Qualcosa si muove, qualcosa non si muove. Allora, hashtag amministrazione Melucci dove sei, questo è il nostro nuovo appunto hashtag per il richiamo dell'amministrazione Melucci. Una campanella, din-don! Esattamente, una campanella e devo dire che ha funzionato. Indubbiamente i miei interventi, come molti si saranno accorti, sono molto più soft rispetto a prima perché diciamo che ho notato un assorbimento diverso da parte di questa amministrazione rispetto alle altre delle polemiche dei cittadini e delle associazioni che chiaramente non fanno altro che agire non contro la politica ma per il bene del territorio. Diciamo che l'amministrazione cerca nei limiti rispetto alle precedenti, si sforza di recepire, poi non sappiamo con quale esito però almeno non ti manda a quel paese. Devo dire, guarda Luigi, devo riconoscere che in pochissime occasioni nelle quali mi sono esposta durante questo ormai anno e mezzo di amministrazione Melucci i risultati sono arrivati anche nel giro di pochissimo. Questa funzione di pungolo dell'associazione Taranto Turismo, della persona di Irene Lamanna, questo richiamo è servito? Assolutamente è servito, ha dato dei risultati e ovviamente, siccome siamo brave persone come abbiamo sempre dimostrato ovviamente così come abbiamo sollevato la polemica, come è successo quest'estate per l'AMI o come è successo qualche settimana fa per le luci, per il buio eccetera poi abbiamo anche ringraziato e riconosciuto il tempestivo intervento. Questo ha portato addirittura alcuni cittadini, come spesso accaduto in questi anni a contattarci per poter avere insomma la soluzione ad alcuni problemi. Diciamo come sportello, posso dire una cosa forse un po' più estrema? Come circoscrizione, perché prima c'erano le circoscrizioni in cui si raccoglievano le istanze del territorio ora almeno l'associazione, quella di Irene Lamanna, quantomeno è un punto di riferimento. Un punto di riferimento non solo per il quartiere San Vito ma anche per altre circoscrizioni del territorio. Ci sono giunte per esempio segnalazioni dal quartiere Italia Montegranaro che andremo a sviluppare nei prossimi giorni proprio perché insomma ci sono dei quartieri al buio e avevano necessità ormai di riottenere anche loro la luce e l'illuminazione quindi visti i risultati si sono affidati a noi. Come si procede? Ci si rivolge all'assessore, all'assessorato di competenza? L'ufficio lavori pubblici nella fattispecie di lampadine che non funzionano, che si fulminano o problemi su marciapiedi? Su che zone si è intervenuto in modo particolare? Indubbiamente fortemente sul quartiere San Vito perché qui siamo più presenti e riusciamo ad avere più feedback anche da parte dei cittadini stessi e dei residenti. Però ci sono arrivate richieste anche come ti dicevo prima dal quartiere Italia Montegranaro, dal quartiere Salinella, dal quartiere Cesare Battisti, insomma da diversi punti della città di Taranto. E allora diciamo intanto Lux Fiat, quando si sono riaccesse le luci e magari facciamo una bella battaglia per le strade, per le buche e per i marciapiedi e per la munnezza, passatemi l'espressione, per l'immondizia. Il cittadino, sempre la solita musica, è sporcaccione e lo è, però l'AMIU deve fare anche il proprio dovere. Io ribadisco Luigi, a mio avviso l'AMIU in quanto istituzione è formata da dirigenza e da funzionari validi. Talvolta però, ovviamente, non potendo avere un lungo occhio su tutti gli operatori, si crea il disagio. Così come il disagio che si è creato delle zanzare, ahimè, pare che ci sia un mezzo rotto. Allora, se io fossi stato il sindaco, ma per fortuna non lo sono e non lo sarò mai. Perché è una disgrazia fare il sindaco. Di Taranto sì. È anche un onore. Se fossi stato il sindaco e se davvero mi fossi visto così alle strette e da non riuscire a risolvere il problema su, pare strano, un unico mezzo esistente per la disinfestazione, avrei chiesto, visto che siamo anche in campagna elettorale e politica provinciale, avrei chiesto ai colleghi sindaci delle province o c'ho la macchia, c'ho il mezzo fuori di servizio, datemi una mano perché c'ho i cittadini che, insomma, le zanzare si sa, possono portare... Ma al di là della campagna elettorale si trattava di una collaborazione sana e doverosa tra gli enti. Esatto, di una sana collaborazione tra gli enti e sono assolutamente certa che i sindaci della provincia non si sarebbero tirati indietro, anzi avrebbero colto l'occasione per fidelizzare e costruire una catena appunto di collaborazione anche per altri tipi di operazione. Bene, e allora questa iniziativa di Renella Mann, dell'Associazione Taranto Turismo, va avanti. Hashtag? Amministrazione Melucci dove sei. E qui di noi aspettiamo risposte. Grazie a tutti.